buon pomeriggio ragazzi allora 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 di cosa parliamo del giorno dopo inter bologna 01 che dire a mente fredda ieri ho fatto un video abbastanza duro e era quello che non è che pensavo sinceramente a parte ranocchia e scrignano andano vice brodovice poi tutti gli altri hanno fatto una partitaccia e insomma il risultato è giusto così perché se tu in i 90 minuti sbagli tanto come come ha fatto i cardi nel primo minuto che ha tirato una ciabattata che la malattia per l'altra parte della porta poi il gol mangiato da lautaro martinez e tutto quanto se non segni con le poche occasioni che ti lasciano la partita la perdi vabbè ma non volevo parlare della partita quello che mi preoccupa di più sono e la società perché io noto che steven zang c'è a 25 anni nel senso anche se si va negli spogliatori a gridare è come se entra mio nipote di sette anni e si mette a gridare con quarantenne c'è chi chi ascolta nessuno ecco quello che diciamo che il padre zang non capisce lì ci vuole una figura forte a parte marotta che poi ci serviamo anche su questo discorso che tenga in punto il gruppo lo spagliatoio il mister e tutto quello che circonda nell'ambiente inter perché sono preoccupato perché io vedo il silenzio di tomba del del presidente che la in cina che si fa gli affari suoi non è mai intervenuto in questi casi di nervosismo tutto quanto cioè se proprio distaccato lasciato tutto al figlio cosa che il figlio si può fare in parte però il vero problema che vedo che non c'è più un come dire un clima di di gruppo che tutti vogliono rimane dalla stessa parte spalletti che si attacca con diciamo con i giocatori spalletti si attacca anche con con marotta si punzecchiano in conferenza su tutti segnali che secondo il mio punto di vista non non fanno bene all'ambiente che già un ambiente molto nervoso e quello che sicuramente andrà a pagare sarà spalletti se non vince parma io credo che la maggior colpa secondo me dei giocatori perché spalletti si al a colpa al 50 per cento però lato 50 io lo do al ai calciatori proprio perché sono quelli che scendono in campo cioè se spalletti dice di fare una cosa e i giocatori ne fanno un'altra spalletti che può fare nulla e questo gioca a spavore di spalletti a me ripeto spalletti nome mai piaciuto però l'ho sempre difeso loro difeso anche alla partita di andata quando l'inter ha perso sia in casa con c'è in casa del sassuolo per i due rigori inondati aver ha giocato male però vabbè col parma li abbiamo bombardati e ci mancano ci manca qualcosa insomma e lì già iniziavano spalletti si spalletti no c'è delle cedro avevo fatto un video suolo e però ad adesso c'è arrivato proprio al culmine della sopportazione perché sia io che tanti altri interisti vorrebbero che cacciassero oggi stesso però capite che il dopo spalletti chi è adesso come cambiasso c'è raga dobbiamo rientrare in champions league se siamo terzi a quattro punti dal milan e cinque dalla roma e dove ammettere uno che sia fatto la storia dell'inter ha vinto il triplete e tutto quanto ma sarà in grado di gestire un gruppo così capite cioè forse che il cucio abbia esperienza come allenatore che ha allenato per tanti anni allora ancora ancora dico va bene ma ha messo così in un ambiente bollente secondo me se perde magari tre quattro partite di fila è un altro che salta perciò non lo so non so se mandare via spalletti se la cosa giusta oppure no io sinceramente non so io se mi dite cosa farei prima di tutto chiamerei il presidente vero c'è non non steven ma il padre e non so dalla cina cercare di fare una una chiamata tanto ci sono i modi per parlare con i giocatori si si fanno un ritrovano soltanto amite skype o qualcosa del genere e zang deve intervenire perché è una situazione che sta sfuggendo di mano tutti perché se guardiamo marotta e riconto spalletti spalletti contro marotta poi perdice è separato in casa vecino che non ha più voglia di giocare e si è visto anche ieri gli unici che che corrono che danno l'anima sono screen and avrai andando invece che fa i miracoli politano e che età e basta cioè non non vedo altri che che possono aiutare l'inter perché sono tutti scontenti ecco questo è un gran problema se fanno un gruppo se si parlano e cercano di trovare un compromesso allora magari puoi salvare la stagione arrivando in champions league e poi a fine campionato spalletti va via e arriverà conte io preferirei che facessero così nel senso di fare gruppo finire la stagione con spalletti arrivare in champions league e poi amici come prima perché a cambiare 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 così con alcun cambiasso avrebbe senso secondo voi ma io non lo so non non sarei sicuro ripeto perché cucciù si è stato grande giocatore ma ha la forza di tenere un gruppo del genere ma vabbè e che dir di altro non so io rimango pensieroso e sinceramente incazzato perché la sconfitta di ieri brucia come brucia troppo insomma e raga è un periodo così nel periodo che va tutto male tra litigi e tutto quanto vedete che a parma io sono sincero vedendo come sta andando l'inter per me a parma prenderà una legnata di quelle fatte bene per me vincere al parma o 3 a 0 2 a 0 secco per me l'inter non non ce la fa perché sia mentalmente che fisicamente l'inter non c'è spero di sbagliarmi attenzione spero che andiamo a parma vincere però la vedo grigia la vedo veramente brutta di altro non non so che dire ditemi voi sotto i commenti cosa 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 si può fare se giusto manda via spalletti se la dirigenza cosa può fare in queste situazioni ma perché ricordiamo che i cinesi di calcio ne sono ben pochi e poi guarda caso da dall'epoca di mancini fino adesso quando arriva dicembre sembra che vanno in letargo cioè partite vergognose poi si riaccendono tra febbraio e marzo così iniziano a vincere boh ma anche nei tempi di moratti cioè diciamo che la vita è andata bene fino all'inter di murigno che era lui era condottiero allora ha tenuto un gruppo anche nei momenti più difficili perché ricordiamoci nel fine primo tempo di chiev l'inter fuori e murigno si è fatto sentire secondo tempo abbiamo ribaltato la partita agli ultimi minuti e questo che all'inter manca manca un una persona che sia forte spalletti non lo è spalletti cioè può fare tutto ma non ma non è un allenatore da inter io l'ho sempre detto l'ho sempre pensato e spero che conte arrivi al più presto se non ne conte o simeone o chi chissà chi però spalletti ha sbagliato tutto sbagliare tanti che sbaglia il modo di usare i giocatori insomma sta facendo errori per la sua esperienza abbastanza abbastanza normali perché anche a roma ha fatto i macelli cioè ok che è arrivato secondo c'è ha vinto poco anche a roma però lui è così lui non è un allenatore vincente parliamoci chiaro non è vincente chiudiamo qua il discorso spalletti e volevo ringraziare kartal per ieri per la live siete stati in tantissimi e veramente non non so che dire vi ringrazio tutti ringrazio kartal ringrazio cubra francesco e chi era come live e stasera mi raccomando venite nel canale di kartal che ci sarà la semifinale tra me e stefano dei che nel razzurro alle 9 e e vi aspettiamo insomma almeno così scarichiamo un po il nervosismo della della sconfitta di ieri che brucia ancora e va bene ragazzi purtroppo è così quando ti giro storto ti giro storto tutto sono deluso incazzato però d'altronde quelli che andiamo a soffrire a essere incazzati siamo noi tifosi che ogni ogni partita andiamo a come meno del 50 e 70 mila persone che purtroppo pagano il biglietto per vedere certi scempi di partite è questo è quello che fa più incazzare di tutto perché la sconfitta ci sta ma devi dare tutto in campo però vabbè oramai è andata e pensiamo a parma inter e speriamo bene perché piano piano punto dopo punto quelle dietro arrivano poi stasera c'è cos'è lazio frosinone o frosinone lazio e l'atalanta con adesso non so con chi gioco il cagliari mi pare sono due partite belle belle toste niente ragazzi io vi lascio iscrizione al canale e lasciate un like e poi non so se volete fare qualcosa altro fatelo pure che importante così due cose ciao ciao